Buonasera a tutti, benvenuti in Galleria Statuto 13 alla mostra personale di Franco Grazunchelli del Flatable Art. Ne approfitto subito per fare una comunicazione di servizio per avvisare che questa è l'ultima mostra della stagione di Statuto 13, poi ci rivedremo il 7 settembre con la mostra di Lentini Stati d'Italia, quindi ne approfitto proprio per augurare anche buone vacanze. Stasera è passata un po' in fausta per il tempo, ma comunque ci siamo e la mostra di Mazzucchelli è una mostra a mio avviso molto molto interessante. Franco Mazzucchelli è un artista molto conosciuto, ha lavorato molto nei maggiori musei, ha lavorato anche alla Biennale di Venezia, ha esposto veramente dappertutto e la cosa che trovo a essere particolarmente interessante è proprio il suo modo di lavorare, come potete vedere voi stessi, questi materiali plastici che sono bvc gonfiati. e per molti ciò che ha appeso un quadro, in realtà essendo tridimensionale a scultura, perché comunque possiamo definirla un'opera scultoria, per poterlo comprendere più a fondo bisogna partire prevalentemente dal concetto di ricerca spaziale, perché in realtà questi lavori sono delle ricerche spaziali, quindi è proprio l'intenzionalità da parte dell'artista di interagire con l'ambiente e quindi di avere un rimando a quello che è stato l'insegnamento degli anni 60 e 70 della Land Art, ma la particolarità di Franco Mazzucchelli che va oltre. Perché dico questo? Perché la Land Art, che abbiamo conosciuto un po' tutti, insomma con artisti come smizzo, come ne Maria, come lo stesso Cristo che abbiamo visto nell'installazione performativa sul lago di Zero, hanno creato operative in funzione all'ambiente e alla natura e questo è sicuramente uno step che Franco ha fatto, ma il suo intendimento era di dirizzare, di avere un obiettivo più diretto verso proprio l'uomo, quindi colui che osserva, quindi più un ambito anche visto dal punto di vista sociale per stimolare concettualmente l'intervento del funitore, dell'osservatore dell'opera d'arte con le opere che Franco ha creato. Quindi ci sono stati degli interventi proprio fisici dal punto di vista di chi osserva l'opera d'arte e questo è sicuramente un passo in più. Vi ricordo tra l'altro che molti artisti negli anni 60-70 hanno avuto a che fare con questo genere di tecnica artistica. Pensate per esempio anche al Gruppo Zero a Milano, quanto è stato prolifico da questo punto di vista, ma anche artisti come Klein, Manzoni, Fontana che comunque hanno avuto a che fare molto con questo tipo di tecnica e con i materiali plastici intendo. Per andare più a fondo e comprendere meglio questa mostra è importante comprendere un po' il percorso storico. Da quando ha iniziato a lavorare appunto negli anni 60 Franco Mazzucchelli ha iniziato principalmente con i lavori degli abbandoni negli anni più o meno 60-70 io mi sono segnato un po' le cose perché sono veramente tanti da lavorare appunto, 64 precisamente, dove le opere erano state create in un contesto di ambiente ma li lasciate con il concetto e l'idea che non sarebbero durate nel tempo, cioè lasciandole, come dire, disperdendosi un po' nell'ambiente. Quindi anche questo è interessante, cioè l'idea del tempo, della caducità delle cose, no? In seguito tra 75 e 78 invece abbiamo avuto il periodo delle riappropriazioni che interagisce con quello che è tutto il discorso della ricerca spaziale con delle diagonali, con delle curve che comunque erano molto più presenti, più prominenti e l'utilizzo anche dei materiali plastici trasparenti. Per poi arrivare agli interventi ambientali tra gli anni e tanti del 2000, gli interventi ambientali ovviamente sono stati molto importanti, vi ricordo per esempio anche quelle grandi opere gonfiabili appunto sono state posizionate a fianco a dei monumenti storici. Questo ovviamente ha creato un effetto spazamento, ma la cosa interessante è che le persone potevano entrare all'interno dell'opera e quindi avere a che fare proprio dal punto di vista fisico con l'opera stessa. Nell'anno 2000 invece c'è stato proprio un cambiamento di tendenza e quindi abbiamo diversi esempi, perché chiaramente non potevamo mettere delle installazioni performative gigantesche e nel 2000 abbiamo l'intervento dal punto di vista creativo di Franco Mazzucchelli con le mie che decorazioni e ne vedete molte, che non ha nulla dispregiativo nei confronti della parola decorazione. Le ha chiamate così, io le chiamo le BD, infatti quando ci siamo visti io le chiamavo questa sigla. L'intento è stato invece di proprio totalmente diverso, cioè ci si allontanati dall'appropriazione ambientale o dalla riappropriazione ambientale per focalizzarci maggiormente su quello che invece era proprio un obiettivo di pur godimento estetico. Quindi più improntato la decorazione nell'arte, con opere più piccole e ovviamente si può sottintendere o sottendere anche una sorta di critica verso la mercificazione dell'arte. quindi c'è proprio anche una concettualità in questo agire. Poi si arriva agli AOM che vediamo presenti in galleria sia sotto sul palco ma anche alle mie spalle e anche in altri punti. Quindi AOM sta per Art on Art. Quindi l'idea di poter far intervenire la persona che osserva il fluidore, o in questo caso quest'opera è dietro di me, graficamente sull'opera. Quindi non c'è più solo l'intervento come è stato il passato di tipo fisico all'interno degli interventi ambientali, ma un intervento proprio grafico. Cioè le persone hanno lasciato un disegno, hanno lasciato un segno di sé, i bambini hanno disegnato sull'opera e quindi c'è stata una reale mescolanza tra quello che è stata la creazione artistica dell'artista che è Franco Mazzucchelli e l'intervento delle persone che erano presenti alla performance. Per esempio sotto al suo palco le prime quattro sono state create, sono titolate Sesto San Giovanni proprio legate al comune e poi le altre che vedono di fianco sono invece quelle di Santa Margherita Ligure. Peraltro le mie spalle sono state esposte anche a livello museale, sono spalle del Museo Messina. Infine proprio recenti abbiamo i REC che invece sono dei veri dei propri recuperi di materiali plastici di opere d'arte che vengono rivitalizzate con nuovi interventi effettuati da Franco Mazzucchelli. Quindi la particolarità che volevo farvi notare è proprio il fatto della capacità di reinventarsi in maniera continuativa è una forte, una profonda capacità innovativa nel corso di tantissimi anni e questa non è una cosa sempre comune nell'arte. Se noi pensiamo appunto a come hanno utilizzato i materiali PVC e plastici gli artisti del passato, delle avanguardie, anche appunto di cui abbiamo parlato poco fa qui a Milano, possiamo pensare quanto realmente questi interventi siano poi stati ovviamente pionieristici da parte loro, che hanno proprio creato un'attacca nelle avanguardie nella storia dell'arte, quindi questo ovviamente è una nota di merito notevole perché comunque è stata una vera innovazione. Ma attualmente ci sono artisti che ancora lavorano, riprendendo queste tematiche ma soprattutto queste tecniche lavorano con materiali plastici gonfiabili PVC. Faccio come esempio mi viene in mente Anish Kapoor che conosciamo, è un artista a mio avviso geniale, indiano, naturalizzato britannico, che ha fatto anche interventi in tutto il mondo a livello anche di metalli, ma ha lavorato moltissimo il PVC, oppure anche Paul McCarty, mi viene in mente, che è esposto proprio in via Brera un po' di anni fa, in un antico palazzo che fortunatamente stavano ristrutturando e all'interno vi erano comunque delle installazioni che utilizzava, dove lui ha utilizzato il PVC, materiale plastico e comunque ha utilizzato anche questa tecnica del gonfiabile. Anche lo stesso Jeff Goose, per esempio, oggi come oggi pensate ai grandi cani animali che lui crea con questa stessa tecnica. Quindi questo per far comprendere che effettivamente c'è stato un prosievo, una rivisitazione secondo declinazioni e creatività diverse, ma che poi in realtà i veri pionieri sono stati proprio loro. Franco è sicuramente qui a Milano uno dei più riconosciuti se non il più riconosciuti proprio per questa tecnica. Volendo proprio riferirci a quel concetto di innovazione che secondo me appunto è molto importante, io trovo che sia spesso collegabile al concetto di tempo e per concludere un po' questa breve presentazione dei tuoi lavori, ho voluto proprio riportare una frase di Jean Boutot che parla proprio di questo e che trovo molto attinente con l'innovazione che tu hai portato nel tuo creare, nel tuo operare nel mondo dell'arte. Jean Boutot, lo conoscete, insomma è stato un grande drammaturgo, scrittore si è occupato di letteratura e di arte, soprattutto nella seconda metà del secolo scorso e ha proprio parlato di quello che è l'idea della novità nell'arte e diceva quando un'opera d'arte sembra in anticipo sul suo tempo è vero invece che il tempo è in ritardo rispetto all'opera e io trovo che questo mi faccia molto riflettere perché è vero che è un concetto filosofico ma è anche vero che è molto collegabile a ciò che ha a che fare nel mondo dell'arte con il collegamento col concetto del tempo, cioè l'arte sembra possa anche scalfire o cambiare in maniera elastica il concetto del tempo, quindi a volte le innovazioni che sono molto anticipatorie come nel caso del lavoro che tu hai fatto, sembra quasi che portino il tempo ad essere in ritardo quindi sembra un paradosso, però trovo che come epilogo per spiegare proprio questa innovazione che comunque usando quelle parole non mie ma di cotto, possa essere giusto epilogo per lasciare poi spazio ovviamente alle persone che stasera riconoscerti e di parlare anche dei tuoi futuri progetti perché ce ne sono diversi. Vi ringrazio, ci rivediamo poi a settembre e vi lascio a Franco e i suoi lavori. Grazie a tutti.